Piccole ruote crescono, un nome emblematico che racchiude il senso di un progetto rivolto ai più piccoli ed utile alla loro crescita civica e sociale. A ricevere le nozioni di basi ed educazione stradale, con particolare attenzione ai pedoni e dalle regole per l'uso della bicicletta, sono stati i bambini delle prime e delle seconde classi della scuola elementare Don Milani di Trinitapoli, che ha aderito al progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. È un progetto, un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione, dal Dipartimento dell'Educazione Stradale in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, la FMI, una delle più antiche istituzioni di questo tipo del nostro paese, che mette a disposizione per i bambini di tutte le età, nel nostro caso per i più piccini, materiale ludico e materiale informativo, studiato e creato apposta per le diverse età dei bambini, attraverso il quale gli stessi hanno modo di apprendere le regole fondamentali di base di educazione stradale, sia per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni, sia per quanto riguarda la sicurezza, nel caso dei nostri bambini, della passeggiata in bicicletta. Il percorso del progetto si è sviluppato tra attività ludiche e teoriche, fino ad arrivare ad una festa di fine anno nella quale i bambini sono tornati a sorridere dopo i mesi duri della pandemia. Il progetto quindi viene accompagnato sia dal materiale che le maestre condividono in classe con i bambini e realizzano ovviamente attività teoriche, sia da lezioni teoriche realizzate da esperti messi a disposizione da Federmoto, e poi si conclude con questa festa per la quale abbiamo aspettato il più a lungo possibile, sia per incentivare i bambini a venire a scuola fino all'ultimo giorno di scuola, che non è mai inutile, sia perché abbiamo aspettato che si allentassero le misure restrittive di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Quindi abbiamo aspettato l'ultima settimana di scuola per concludere con questa festa. I bambini l'aspettavano da tanto e vengono accompagnati in questo percorso appositamente strutturato per loro dai struttori professionisti che li aiutano a imparare a guidare in sicurezza.